Allora, entrami in onda qui su Play, siete sempre all'ascolto di RBA chiaramente, sono già le 8.44 minuti quindi è decisamente tempo di addentrarci nello spazio di approfondimento di oggi, altrimenti non riusciamo a raccontarlo come si deve Torniamo a raccontare le inchieste di IRP Media, Investigative Reporting Project Italy, è la seconda puntata se vogliamo di questi nostri collegamenti Oggi raccontiamo di una inchiesta portata avanti sotto il formato del podcast, si chiama Figli del Silenzio e abbiamo con noi una delle giornaliste che se ne è occupata, Giulia De Luca, benvenuta su Play Grazie, buongiorno a chi ci ascolta e grazie a voi Allora, è una vicenda veramente molto singolare quella che viene raccontata in questo podcast Qualcosa di cui io non avevo davvero mai sentito parlare, lascerei a te il racconto che cosa c'è al centro di questo lavoro d'inchiesta Al centro di questo lavoro ci sono delle adozioni illegali avvenute dal Cile verso l'Italia Allora, il tema è più ampio perché adozioni illegali da paesi latinoamericani e in particolare in questo caso dal Cile Verso altri paesi del cosiddetto definito primo mondo, almeno al tempo giù Sono avvenute tra gli anni 50 e gli anni 90, si sono proseguite fino ai primi anni del 2000 Ma c'è stato un picco durante la dittatura militare di Augusto Pinochet Che è cominciata nel 73 ed è terminata nel 90 In questi anni sotto il regime autoritario alcune pratiche illegali, più di una in realtà, erano più semplici E questi bambini, si parla di almeno 20.000 al tempo bambini e bambine, adesso sono uomini e donne tra i 40 e i 50 anni Sono stati mandati, venduti e adottati legalmente in moltissimi paesi del mondo Diciamo tutti quei paesi considerati ricchi, alcuni siamo arrivati fino in Australia In Europa ne sono arrivati molti in generale, anche in Svezia, in Danimarca e in Italia In Italia c'è un caso particolare che è il caso Sardo Che è un'isola che non ha una grossa densità di popolazione È un'isola grande però come estensione nel Mediterraneo E qui ci sono almeno, ne sono arrivati almeno 500 Perché? Perché ci fu un'intermediazione di istituti religiosi al tempo Che favorì la, diciamo, la pratica Chiaro, e voi insomma, anche solo come avete scoperto di questa vicenda Cioè come avete saputo insomma della situazione particolare della Sardegna E poi insomma ci puoi raccontare anche un po' che cosa avete esplorato Adesso senza dire troppo, altrimenti poi togliamo l'interesse degli ascoltatori Di andare ad ascoltare questo podcast Ma insomma, a grandi linee, quali sono i filoni che avete seguito? Ah, con la collega Elena Abbasso siamo tutte e due giornaliste Che si occupano di Latinoamerica Ne abbiamo la passione, ci abbiamo vissuto Elena ancora risiede al momento in Cile E quindi entrambe seguiamo molte storie Nel continente latinoamericano la questione dei diritti umani E delle violazioni dei diritti umani È un tema molto presente Anche se in forma differente a seconda dei paesi Quindi entrambe seguiamo diverse storie Abbiamo diverse fonti su diciamo quello che accade nel continente E in determinati paesi Quindi entrambe siamo arrivate a questa storia da fonti differenti E abbiamo deciso di concentrarci appunto sul caso Sardo Ora, quali sono i filoni? Innanzitutto il filone della polizia investigativa cilena Che sta indagando e ha messo sotto inchiesta alcune Sia assistenti sociali perché non sono stati solo gli istituti religiosi Era una rete Era una rete, tutta una filiera Perché non si può far uscire un minore da un paese Un minore, stiamo parlando di bambini anche di un mese Da un paese senza un accompagnamento Senza qualcuno alla dogana che chiude Alla frontiera che chiude più di un occhio Senza qualcuno che abbia prodotto un documento Senza qualcuno che lo abbia preso da un ospedale Come spesso accadeva Dicendo ai genitori che il bambino era morto Era nato morto O che era gravemente malato Questa è un filone Quindi tutto ciò che era l'apparato pubblico Per quanto riguarda gli istituti religiosi Molti erano istituti dove per esempio Questi genitori spesso molto giovani Spesso anche con poche possibilità Stiamo parlando di realtà povere degli anni 70 In Cile Quindi spesso a volte madri adolescenti A volte analfabete Che risiedevano comunque in baraccopoli Che magari avevano altri figli O no ma che comunque dovevano andare a lavorare Perché se no a casa non si mangiava E quindi che succedeva Spesso lasciavano i ragazzi o le ragazze In questi istituti Ma non abbandonati Li lasciavano lì perché li potevano studiare E poi li andavano a trovare O a riprendere la sera dopo il lavoro Cosa succedeva? Che spesso dicevano che O il bambino era malato O che in quel momento non poteva essere visitato Se non si firmava per una serie di volte Il bambino o la bambina risultavano abbandonati E da lì partiva poi Tutta una serie di pratiche Che arrivava con l'intermediazione Di un istituto Di istituti religiosi in Sardegna Alle famiglie che cercavano di avere Un'adozione ma che non potevano avere figli Queste famiglie sarde Alcune erano proprio fuori limiti di età Per adottare Ricordiamo che in Italia l'adozione È legale fino ai 45 anni O deve intercorrere la differenza di 45 anni Tra l'età del genito massimo Tra l'età del genitore e l'età dell'adottato Però ecco per esempio C'è il caso di una ragazza donna Che abbiamo intervistato Che si chiama Giulia E che la cui madre in 15 giorni Ha fatto tutte le pratiche Chiunque abbia spito l'iter legale Per l'adozione internazionale Sa benissimo che 15 giorni sono molto pochi Io stessa ho parenti Che hanno adottato ragazzi Internazionalmente E l'iter ha richiesto diversi mesi Se non in alcuni casi addirittura anni Sì sì siamo più sui 15 mesi Esatto Quindi poi assenza di controlli Sulle famiglie Alle quali questi ragazzi e ragazze Venivano affidati C'è un altro caso Il caso di Maria Che è una persona Che ha mantenuto dei profondi traumi E che ancora oggi ci sta lavorando Perché è arrivata in una famiglia Dove innanzitutto Dopo i primi tempi Anche un po' di entusiasmo È stata molto maltrattata È stata abusata Dai suoi parenti E nessuno ha mai fatto dei controlli Nessuno Quindi lei ancora Sta andando avanti Cercando È riuscita a ricostruire Solo la storia di suo padre Con il quale ha parlato Non ha ancora trovato la madre Ad altri ragazzi Non era stato detto Che erano stati adottati Ad altri invece sì Ci sono tante storie Però sicuramente tutti Quelli che abbiamo Almeno intervistato noi Hanno avuto Una storia strana al nascere Alcuni erano figli di abusi Compiuti dai militari Scusate Dai militari Altri sono stati appunto Strappati alle madri Nel momento della nascita Dicendo che erano nati morti Altri è stato detto ai genitori Che non stavano bene Quando invece sono arrivati in Italia Ed erano perfettamente in salute Uno lo abbiamo intervistato Si chiama Juan Pablo Lo racconta Dice io sono arrivato E stavo bene Ma a mia madre Mi hanno detto che stavo male E altre donne E abbiamo le testimonianze Delle madri Che si sono organizzate Dal 2014 E cercano di creare Una banca dati genetica E cercano di andare avanti Nel rintracciare i propri figli Sono state sedate Per esempio Ad altre Non è stato dato Il documento di parto L'attestato E alla quinta volta Che tornavano in un ospedale Veniva detto loro Che non erano mai state lì E che non avevano mai partorito Quindi in realtà E molti anche genitori Invece Che hanno proceduto all'adozione Alcuni Invece sono stati ingannati Non lo sapevano Quindi ci sono tanti casi La giustizia sta ancora indagando Uno dei membri della Corte Suprema Cilena Mario Carrossa Appunto ha dichiarato Che sta portando avanti Le indagini su più di 20.000 casi E Però non esiste ancora Una banca dati genetiche Ed è per questo Che fanno anche un appello Le madri Dice Noi non vogliamo Né attaccare I genitori Né Né creare problemi Però vorremmo sapere Come stanno i nostri figli Anche perché E questo pure Anche risulta dal podcast Appunto Spesso era sotto compenso Un compenso a volte Proporzionato Alle possibilità E fatto passare Come un'assistenza Per l'istituto Sul luogo Ma insomma In alcuni casi Parliamo di Per esempio La madre di Claudio Ha venduto un terreno Stiamo parlando Di 20 milioni Degli anni 80 Certo Che hanno Avevano un potere D'acquisto Molto differente Ai per esempio 15.000 euro attuali Per quanto 15.000 euro Siano una cifra Più che considerevole Non stiamo dicendo di no Ma 20 milioni Del 1980 Erano tanti Sì Insomma per chi se lo ricorda Decisamente Decisamente Insomma una storia Davvero A tratta ghiacciante Ma appunto Decisamente sconosciuta Quindi proprio per questo È importante Andare a raccontarla A scoprirla Con questo Con questo podcast Per chiudere Ti chiederei proprio Le informazioni tecniche Le coordinate Insomma Se vogliamo ascoltarlo Dove lo troviamo Certo E sia sul sito Di Irpi Media Basta scrivere Figli del silenzio Irpi Media Appare la pagina Ma può essere anche Ascoltato gratuitamente Su Spotify Semplicemente digitando Figli del silenzio Perfetto Quindi insomma Piuttosto facile Non ci sono particolari scuse Grazie mille davvero A Giulio De Luca Che ce l'ha raccontato Invitiamo tutti davvero A dare un ascolto A questo interessantissimo podcast Grazie ancora Grazie ancora E alla prossima Grazie a voi Buon lavoro E alla prossima Ci prendiamo adesso Un momento di pausa E ritorniamo tra poco Sempre qui Su Play Grazie a tutti Grazie a tutti